A volte mi chiedo se credere in questi fottuti sogni ne valga davvero la pena. Chi ha imparato a convivere con un sogno anche una sola volta sa di cosa sto parlando. Le mille delusioni, le pressioni, l'ansia di dovercela fare, l'ansia di dover dimostrare agli altri che non sei un fallito e che non stai sprecando tempo nella tua vita. Però poi ci penso e mi dico, beh se un sogno fosse accessibile a tutti e tutti potessero realizzare i sogni, allora non sarebbero così unici e speciali. Ci vuole tanta ma tanta costanza, ci vuole cuore, ci vuole anima, ci vuole sangue, ci vogliono lacrime, ci vuole un mix di cose che hai dentro che nemmeno puoi spiegare. È tutta una costante lotta con te stesso, perché tu sai cosa hai in mente, sai dove vuoi arrivare, sai quanta determinazione hai. E il destino non esiste, ma se esistesse un destino, fanculo anche al destino, perché tu puoi comandare, tu puoi ribaltare le cose e senti che quel sogno lo puoi realizzare con tutto te stesso. Non importa quanto quel sogno ti abbia fatto soffrire, metti sulle cuffie, esci di corsa, buchi quel buio che ti circonda, convinto che questa volta ce la farai.